giugno e tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui nuovamente insieme a buzz che ci porta la sua versione la versione corretta come sei un ragazzo come tu prima francesco francesco ti voglio bene ma c'ha dirato che non si possono guardare la lista era pure vecchia dai no 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 non sono corretti da quando si giocava con vfd queste certe cose ma ma portiamo rispetto ha fatto la sua profile è giusto così allora ovviamente però prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jumpstart il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione inoltre se volete vendere la vostra merda di yugi magic pokemon e one piece perché qua abbiamo tutte le categorie si gioca tutto contattatemi qua sotto trovate instagram e nel caso poi se c'è roba interessante se ne può parlare perché loro vengono spesso lui e gli altri a scavare a scavare quindi hanno bisogno di materiale nuovo detto questo io ti lascio e me ne vado perché non voglio imparare fluffal mi cambia la telecamera però promesso che te la cambia allora partiamo con questa profile di fluffal intanto l'archetipo è diviso in due parti questa è metà allora questa è la parte forte dell'archetipo la parte imp l'archetipo è in due tutte le fusioni tipo queste c'è necessità di un imp e un fluffal tranne quelle più vecchie che necessitano specialmente di scimitarre più un fluffal visto che all'epoca era solo questo i ratio sono puliti catena è la carta più forte del mazzo in assoluto incontestata veda tutte le risorse possibili poi adesso con questa versione che si sta testando adesso è in assoluto ancora più forte di prima perché c'era un periodo mare sotto cash tira che siccome vanni da poteva mettere a due quest'embrick è un extender qualche volta serve giusto perché il nome ed è serciabile da vendor più altre cose saife è forte perché ha un ht qualche volta ve l'ha recuperato nel turno dell'avversario un tempo si usava per sé da pare falce adesso falce non c'è più non c'è più dagda però comunque è una carta fortissima se la pescate in entrap se ci partite se no se cerca perché dà un'interruzione da mano per diversificare nel turno dell'oppo poi i nomi tre della carta che serve c'è a vendor tre della carta che serve c'è un fluffal e tre della normal forte del mazzo vabbè orso non c'è da spiegare semplicemente nasce sotto i vendor più accessi avete più forte il mazzo perché nessuno degli effetti once a parte quello di orso ma ok e gli effetti vendor se deve cerciare su spaccato se è andato a cimitero anzi che di scartare rivelare cedera sono entrambi non soft quindi meglio averci lì più possibile cane cerebre cancer cino è a livello 4 vaiuta fa exis pinguino è la carta più forte del mazzo quando fonde pesca 2 scarta 1 come liquid soldier e c'è il fatto che fa una patente a normal aggiuntiva vede accesso a exis rango 4 che nel mazzo sono abbastanza forti poi c'è i nomi mono in ordine questo è il più forte di tutti serve insieme a pinguino ci passate ogni singola mano in cui ci potete arrivare tutte fa una quantità di risorse illimitate perché presenta un vendor senda questo a cimitero e questo pesca 2 fondamentalmente ad uno con vendor pecora è un extender e poi vedremo alla fine che serve anche per una carta una sorpresa d'extra andiamo tra poco in realtà piovrà piovrà è l'unico che non è obbligatorio cioè ipoteticamente la lista qui ci potrebbe essere un'altra carta o sta con un flexpot in più però vedrà il grind migliore possibile veramente solido e soprattutto dovete fondere con scythe nel vostro turno con questo recuperate per il turno dell'oppo poi la tech segreta merly che viene mandata da una carta d'extra che penso tutti conosciate ma vedremo comunque dopo e anche per cosa ci facciamo e poi l'engine forte che finalmente ha reso sto mazzo un po' più stabile unchained l'engine è piccolo 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 è giusto d'extra però charvara spacca vendor che è mostruoso e in più vuoi fare risorse quando va a cimitero altri accessi a toy vendor insieme poi effettivamente a toy vendor che è la carta base su cui gira il mazzo i tre patchwork che qui cerciano tutto e poi ci sono vabbè le due poli ovviamente queste sacciate patchwork poi questa mono qua serve per le combo quasi tutte adesso e se passa per un mini engine di unchained è molto più importante riparazione perché a date questa di si aprite catene non più patchwork che è un po' pesante ma ci si arrangia poi la trappola di unchained meglio questa è poco da fa e diciamo che l'engine è finito c'è solo sta parte qui da qui in poi c'è 5 slot liberi l'ideale sarebbe questa cosa qua siccome non è proprio accessibilissima vedo anche un'alternativa questa è necessaria non 3 anche se cioè se potrebbe giocare 3 anche se non ci fossero le thrust diciamo mettiamo qui non c'è le thrust comunque 3 forte però come il mazzo pesca veramente tanto magari ci arrivate anche se la cattiva e la trattata all'inizio ci arrivate più tardi e non ne volete pesca n'altra è pesantissimo visto che quasi niente once e un sacco dei modi di extend anche col fatto che la norma è limitata e gli extenders sono pochi e quindi generalmente il triplo talent è pesante l'altra carta che potete provare al posto delle thrust è questa carta un po' interessante che era il dino perché sono tutti i flaffa sono tutti fata 3, 6, 9, 13 nomi base più 3 eraldini quindi sono 15 che poi sono andate anche a 3 da poco sono giusti per attirare il dino il problema del mazzo è che sfortunatamente non c'ha risorse infinite in mano a differenza di quando c'erano i shizu che poi i shizu fanno vale al cimitero poi i pezzi al cimitero fanno pochissimo l'unica roba che sei contento di scartare è ali ora araldino è un ht mostruosa perché poi forse è l'ht più forte del gioco insieme a gamma come a se stante fuori contesto però proprio perché brucia risorse non è necessario non è obbligatoria molta gente l'ha cattata nel tempo anche se è giocata per un periodo adesso che c'è tanti demoni magari possibilmente più forte thrust però ipoteticamente l'araldino è decente poi la mono che è il gioco de side che è fusione non serva quasi niente da primo la combo la fate senza in brick però da seconda aiuta veramente tanto a push a comandino quindi magari potete provare la de main secondo me in brick però la mono de side si tiene sempre passiamo all'extra abbiamo la parte dei fluff al che è piccola solo queste non serve tante fusioni le potete riciclare con repair soprattutto nella line base lo fate adesso line base è posto ma sono anche shabba line trittissima però adesso riciclate con repair più di questo non serve l'unico target in più che qualche volta si vede è kraken però poco impattante la negate forte che settate è questa merly sendable the sprint la usate insieme a sta pelia per fare sta pelia spesso riciclando tigre o riciclando whale aprite forte e riciclate sempre whale poi mai le faccio una line poi questo perché fa un sacco di risorse cioè vedo aiuta a far combo 1 e 2 sono abbastanza obbligatori poi la parte d'unchain non chiede per questo in lingua disumana anche questo in realtà e la parte d'unchain stra solida e poi un paio di carte go second allora questa obbligatoria ed è conseguenza obbligatoria anche Zeus queste non sono necessariamente obbligatorie ma la roba forte d'unicorn che è da second se andate vendor parte vendor quindi generalmente preferite mai una carta come questa o come phoenix e anche celbero magari rispetto a azalea nonostante ci avete comunque un numero decente di dark perché light and dark 1,2,3,4,5,6,7 quindi magari ecco gli araldini magari siamo a 10 magari la fatta carare però non scartando sembra stupido o meno impattante l'idea è stra pulita celex è stra pulito non cattere niente ma è giusto che sia l'unica cosa ovviamente potete non giocare a merly non è obbligatoria questi non servono più e qui c'avete due slot liberi un po' di gente sta testando griffone magari vi piace di più la side non vedo una side vera perché è inutile tanto dipende dal meta l'unica roba importante è che se giocate merly in cui non c'è spazio questo obbligatorio perché da primi contro unchain deve stare fa questo o non altro e poi la roba di artente è che siccome spesso lo fate con pinguino delfino prende 500 attacco ma dettaglio e vi dà un katod qualche volta capita questo è il modo più facile di vincere al tempo perché il mazzo non c'è accesso a sincro questa appunto dicevo è monbrick da primo quindi la metto the side giusto per una seconda queste tante volte se giocate the side e perché the main è inutile giocare ne tre però magari se andate secondo la mettete al posto di un'altra cosa soprattutto se non giocate tipo yaraldini e poi un altro po' di carte che adesso non ci ho segnate ma possono essere interessanti sempre perché forti che si energizzano meglio con l'archetipo delle altre staples c'è TT, Tin Twister perché siccome è scartata e fa parte i vendor e l'altra roba è Lord Eldritch adesso che c'è Unchained non mi pare tanto splashabile però magari se la roba da Unchained la hittano oppure non serve più la gente comincia a giocare gli out più forti potete riprendere a fare board con Lord anche se per ora Unchained la versione più forte possibile questa è la lista non vedo grandi combo perché non c'è due car combo one car combo particolari la base del mazzo comunque è che ciclate tutti i pezzi non so troppo once l'unica roba importante che vi faccio vedere se partite prendiamo patchwork più uno prendiamo un nome scarso questo è un esempio stupido fate patchwork prendete imp e poli e fondete fino a qui non è molto difficile fate la vostra balena pulita pulita parte se fondete con pinguino ovviamente cioè pinguin parte meglio però è qui semplicemente defilo catena finalmente date repair e per una volta si usa l'effetto del repair per quello che è stata pensata cioè balena targeta se stessa senda tigre repair dice rimischia una fusione del cimitero reborn a uno rimischia imp e questo è come si arriva ad Unchained c'era la in base base ad Unchained ed è qui voi fate le vostre combette a caso poi alla fine generalmente con link 2 che ama più pecora si fa sprint sprint senda rimischiate la balena che avete messo e la merly per fare anche sta pelle e se riuscite ovviamente sotto ci si mette dod più le risorse in mano più quello che è poi dipende dalle mani però la combo base base per arrivare alla roba da Unchained è questa è una catena più le fusionità extra perché sono tutte quante demoni è solo il party demoni del mazzo e niente questo è quanto e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere se volete che Buzz torni tornerà sicuramente perché ci deve portare apparentemente ci deve portare un'altra decklist decklist degli dei quella vera questa è è intrattenimento puro l'altra è intrattenimento puro anche l'altra abbiamo pendolo post supporti è una menzogna è una post ciac così posso saiac eh giusto la lista post saiac fatta tipo una settimana prima mi sembra corretta no ma tu considera che la lista dei purelli l'abbiamo fatta con i supporti quelli nuovi di dune quando c'era la bannata la roba vecchia ancora prima della bannata no 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 è andata bella dai poteva essere peggio però era uscita tipo 20 giorni l'uscita di dune quindi diciamo le carte giapponesi e niente vabbè o anche oggi sarà la carta la prossima lista è la carta giapponesa ci arrangeremo signori che bisogna fare detto questo ragazzi statemi easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti